All'alba l'una di primavera si vestì e andò subito a vedere come stava Marionetta. Poiché la ragazza dormiva ancora proseguì verso la cucina. Anche quel mattino doveva sovrintendere la disposizione dei piatti di riso e acqua davanti al dio della cucina. Nel cortile dei servi c'erano soltanto le galline e lei le mandò via spazientita. Qualcuno bussò al cancello dei mercanti. Una donna chiamò. Per piacere devo vedere la giovane padrona della casa dei V. Che cosa vuoi? Luna di primavera si avvicinò alla porta ma non l'aprì. Ho qualcosa per lei. Sono io ma non c'è nulla che desideri comprare. Vi prego non sono qui per vendere ma per parlarvi è urgente. Luna di primavera esitò un attimo ancora poi rapidamente fece scorrere il chiavistello. Una vecchia megera entrò dopo essersi seduta per terra e strasse dalle due suole di stoffa di una scarpa un foglio che vi era nascosto e lo ficò in mano a luna di primavera. Un attimo dopo era scomparsa. Il foglio non portava né il nome del destinatario né una firma ma la grafia era inconfondibile. Talento nobile scriveva con quei tratti bruschi, rigidi. Soltanto un soldato informato di un imminente pericolo avrebbe agito con tale risolutezza. Nessuno all'infuori della famiglia deve sapere chi sono io o sospettare che sia qua. Lasciate Pechino. La concubina sta per dare il suo appoggio ai cosiddetti pugni di giustizia e di concordia che già si stanno infiltrando nella capitale. Chiunque abbia rapporti con gli stranieri è in pericolo. Partite senza indugio. Nel giro di tre giorni la famiglia V, a bordo di otto carri chiusi trainati da muli, lasciò Pechino. Si fece circolare la voce che Gioia di Loto si fosse improvvisamente ammalata e che quindi si anticipasse la partenza per la residenza di montagna in cui i V trascorrevano l'estate. Ciccia, vecchio falco e marionetta, di cui ci si poteva fidare, le accompagnarono. Gli altri servi furono lasciati indietro per finire. Di chiudere la casa, fu detto. Dieci. La separazione. Dalla storia cinese, il ventiquattresimo giorno della quarta luna dell'anno del topo 1900, la legazione inglese tenne un grande ricevimento per celebrare l'ottantunesimo compleanno della regina Vittoria con musica, danze e champagne. Quattro giorni dopo, mentre i boxer distruggevano la ferrovia degli stranieri da Tienzina a Pechino, caddero le prime gocce di pioggia. La coincidenza fu considerata prova della benedizione del cielo. Il ventesimo giorno della quinta luna, la vedova annunciò pubblicamente il suo appoggio e i boxer invasero la capitale. Alle truppe imperiali fu ordinato di unirsi alla lotta contro gli stranieri. Il quartiere delle ambasciate fu assediato. In un punto panoramico dove i pellegrini avevano collocato una panchina di pietra, luna di primavera sedette aspettando felice promessa, come aveva aspettato ogni sera da quando, un mese prima, si erano rifugiati nel monastero delle regioni benevole. Il sole color cremisi tramontava dietro le grondaie del tempio, ma per un'altra ora nuvole e luminose avrebbero diffuso un alone color malva sopra le colline a occidente. L'aria era fresca, fragrante di pino. In basso la natura si estendeva come un arazzo a perdita d'occhio finché la terra scompariva nel cielo. Sottili, volute di fumo, si alzavano da camini invisibili. Di tanto in tanto soffiava un alito di vento che si portava dietro, come i nastri della coda di un aquilone, i vespri melanconici dei monaci. Uno dei cervi del tempio che si stava beverando si interruppe per lanciare un'occhiata verso il sentiero tortuoso che serpeggiava fra i massi ricoperti di muschio e gli alberi nodosi accanto al fiumicello. Messa sull'avviso, luna di primavera andò incontro a suo marito. E insieme passeggiarono nel giardino adorno di piccole alture artificiali piantato secoli prima da un taoista che aveva sognato quel paesaggio in una visione di immortalità. Lei canticchiava a bassa voce. Felice promessa, le prese furtivamente una mano. Lei subito si liberò perché quella sera non erano soli. Nel padiglione della degna contemplazione sedeva un monaco solitario a leggere e la sua testa calva riluceva al bagliore delle candele. È così strano trovare un monaco in un monastero? Sei impazzito? Camminare e parlare in pubblico è già abbastanza scandaloso. Ora vuoi peggiorare la situazione prendendomi la mano di fronte a tutti? Non hai nessuna considerazione per il buon nome della tua famiglia? Non ti piace essere con me? Non è questo il discorso? In una sera come questa che mi importa del mondo? Beh, al clan dei vuoi importa, a tua madre importa. Lei fece finta di scappare via ma lui la ferrò per una manica e sussurrò Scacco matto! Luna di primavera sorrise suo malgrado. Suo marito sembrava un ragazzino. Guarda, indicò il padiglione, il monaco se ne sta andando. Possiamo nasconderci qui fino a notte e nessuno saprà che tu sei una donna sfrontata. La notte era tranquilla. L'unica cosa che si muoveva era la luce della luna che andava scoprendo le rupi e il gigantesco Buddha sdraiato nel suo eterno sorriso. Rimasero seduti in silenzio per un po', poi lui parlò. Siamo stati felici io e te nonostante tutto, non è vero moglie mia? Lei gli strinse forte la mano. Non sono mai stata tanto felice. E se non potesse durare, rimpiangeresti di essere diventata mia moglie? Lei non capiva. Presto avrebbero avuto un figlio e la loro felicità sarebbe stata completa. Alzò gli occhi sorridendo verso di lui, ma vide che era serio. Marito mio, perché mi chiedi se rimpiangerei il mio matrimonio? Perché mi chiedi una cosa simile? Lui le prese il volto fra le mani e la baciò dolcemente sulle labbra. Perché? Perché, marito mio? Perché non dovresti mai avere rimpianti? Non dovresti mai cambiare? Perché dovrei cambiare? Ma la nostra è un'epoca di cambiamenti, disse lui gravemente guardando verso il Buddha. Per il mondo forse, ma non per noi. Non per te e per me, insistette lei. Come potremmo cambiare? Siamo marito e moglie? No, quello non cambierà. La sua voce era disperata, come se quel che poteva accadere fosse già accaduto. Rapidamente lei gli mise una mano sulle labbra. Per favore, non parliamone più, non questa sera. Lui annui, tenendola stretta a sé. Lei tentò di ricordare la melodia che stava canticchiando senza riuscirvi. A suo posto le venne in mente un verso di Wang Chen. Un mago ti chiuse nella sua mano e l'aprì, trovandosela improvvisamente vuota. Doveva aver avuto un brivido perché lui si alzò e si tolse la giacca per appoggiagliela sulle spalle. Poi le tene le mani fra le proprie e se le portò alle labbra come per riscaldarle col suo fiato prima di prenderla ancora fra le braccia. Ma non era il freddo a turbarla e alla fine si liberò dal suo braccio e diede voce al suo pensiero. Hai in mente di tornare a Pechino, marito? Non è vero? Lui annui, impercettibilmente. Devo andare. Anche se non posso far niente, devo provarci. Unirmi ai miei amici, aiutare la gente del quartiere, delle ambasciate. Devo provare. Si aspettava da lei che dicesse qualcosa, ma l'una di primavera era come incapace di parlare e un attimo dopo lui proseguì. Vorrei poter restare, ma non posso. Non posso restare di nuovo a guardare come ho fatto quando hanno giustiziato i miei amici nella zona dei festeggiamenti. A fatica, l'una di primavera ritrovò la voce. Che cosa puoi fare laggiù? Dove andrai? Chi vedrai? Si nascose il volto fra le mani. Tu morrai, lo so, e per niente. Per l'onore, forse. Non posso restare nascosto in un monastero. Lei lo guardò, rabbrividendo di nuovo. Ma, marito mio, tu non sei un soldato. Non sai nemmeno bene da che parte stai. Mi hai detto che se vinceranno i pugni di giustizia e di concordia ci sarà un massacro di innocenti. E se vinceranno gli stranieri dovremo fare altre concessioni e subire altre umiliazioni. Se vinceranno le truppe imperiali si accrescerà il potere dei manciu in un modo o nell'altro. Tu resterai sconfitto. Lui non ribatté. La prese di nuovo fra le braccia, cullandola. Non molto tempo prima lei l'aveva stretto così. Ancora un estraneo fradicio di pioggia sconvolto dal dolore. Ora era il suo amato e andava a morire. Questa volta sarebbe impazzita lei per il tormento. Si staccò da lui piangendo senza ritegno. Ti prego, ti prego, marito mio, ti prego. I cortili sono sempre stati i confini del mio universo. Tra di essi ho conosciuto tante soddisfazioni. Perché il tuo mondo deve essere più grande? Non possiamo essere felici e vivere l'uno per l'altra? C'è qualcosa là fuori per cui valga la pena morire? Non lo so, rispose lui. E poi di nuovo l'onore forse. Approfittando di quell'istante di dubbio si sforzò di escogitare un modo per sciogliere i grovigli dei suoi pensieri per attirarli nuovamente verso la famiglia. Perché non accontentarci di essere come l'erba ai piedi dell'albero più alto e lasciare l'eroismo a coloro che, come il giovane zio, ambiscono alla grandezza perché l'amore non ha appagato i loro sogni. Si portò la sua mano sul grembo. Tu e io, marito mio, abbiamo sognato nostro figlio. Egli è qui. Ora sono sicura che è qui. Aspettò, poiché lui non rispose e supplicò. Promettici che non te ne andrai. Prometticelo! Lui fece per parlare, ma poi chiuse gli occhi e scivolò in ginocchio i suoi piedi abbandonandole la testa in grembo. Lei lo attirò a sé e trattenne il fiato. Ascolta! Supplicò silenziosamente. Ascolta le preghiere di tuo figlio. Non ci fu alcun suono, soltanto il tonfo delle pigne scrollate da una folata di vento. Soli, nella loro camera, si spogliarono in silenzio. Lei, nella sua camiciola, fu la prima a salire sul letto. Un kang di pietra coperto da una stoia intrecciata di morbido bambù. Non poteva soffocare il pianto. Felice promessa la teneva stretta a sé, accarezzandole dolcemente la guancia, asciugandole le lacrime una a una. «Moglie mia, mi hai dato tanta felicità che non so nemmeno trovare le parole per descriverla. Lo sai, non è vero?» «Sì», sussurro a lei con voce rauca. «Ma un uomo senza carattere non può trovare piacere nemmeno in una felicità come la nostra. Da quando sono diventato uomo, ho sempre pensato, insieme con persone come i tuoi zii, che la Cina non può tornare indietro a essere il regno di mezzo e prosperare nell'isolamento. La Cina deve diventare parte del mondo, e così tutti i cinesi, e così io. Se cercassi di racchiudere il mondo in un solo cortile, sarei un uomo senza carattere». Aspettavo una risposta. Lei non disse nulla. «Di che capisci», ora la supplicavo. «Luna di primavera, non posso vivere se non prendo parte a questa lotta, e non posso rischiare la vita senza che tu abbia capito». Per un attimo ancora lei rimase immobile, già passando da questa a un'altra vita, invidiosa dell'acqua che scorre nel fiume, del sasso che sta sulla montagna, dei fiori selvatici che fioriscono e muoiono ogni stagione, appena fuori della porta. Sarebbe rimasto tutto come prima, una volta che lui se ne fosse andato. Al creposcolo nulla può trattenere il sole dal tramontare. Il venerabile vecchio aveva ragione. Si sollevò e scrutò il volto del marito alla luce della luna. Non poteva dimenticare il minimo particolare. Voleva rivivere quei due anni, ricordare ciascun giorno, ciascuna notte della loro vita nuziale. Lei, invece, sussurrò soltanto «Capisco, marito mio!» E si chinò per baciarlo sulle labbra. Fra l'alba e il tramonto del giorno successivo, mentre lei serviva alla suocera, felice promessa se ne andò. Non le disse addio e lei non lo vide partire. Ritornando nella loro stanza alla sera, luna di primavera vide che aveva disposto la scacchiera e mosso il suo soldato in posizione di battaglia. Le settimane passarono senza notizie di felice promessa. I profughi provenienti dalla capitale, sostando per pregare al monastero prima di continuare verso sud, parlarono di silenzi nefasti seguiti dal fragore del cannone e dai rintocchi delle campane delle torri, da gridi di battaglia e di dolore. Parlarono dell'esecuzione di ministri che avevano denunciato i pugni di giustizia e di concordia. Luna di primavera sognò che suo marito veniva pubblicamente disonorato. Alla fine della quinta luna, il flusso dei profughi rallentò. Quelli che riuscirono a fuggire riferirono che ora soltanto gli sciacalli osavano camminare per le strade di Pechino. Le merci straniere venivano ammucchiate nelle piazze e incendiate. Il terzo giorno della sesta luna, le fiamme distrussero la Hanling Yuan, la foresta dei diecimila pennelli, la più antica biblioteca del mondo. Le teste di Pelosi, secondi e terzi venivano appese agli incroci come lanterne. Luna di primavera immaginò che la testa di lui fosse tra quelle. Prima dell'inizio della settima luna le sorti della battaglia si capovolsero. Truppe straniere di rinforzo erano sbarcate a Tienzine e stavano aprendosi la strada verso Pechino col ferro e col fuoco. La vedova e la corte si rifugiarono a Sian. Una nuova ondata di profughi giunse dalla città portando notizie al monastero fra le colline. Alla fine dell'ottava luna la capitale era deserta. Metà delle case erano state rase al suolo i negozi saccheggiati qua e là un cartello improvvisato supplicava nobilissimo straniero non ucciderci qua dentro siamo tutti brava gente. E l'una di primavera vedeva il corpo di lui crivellato di pallotto le straniere. Per tutto l'autunno e l'inverno le truppe straniere scatenarono le loro rappresaglie sul nord ogni città sul loro cammino fu saccheggiata e migliaia di innocenti furono uccisi. I pozzi si ostruirono di cadaveri di donne che cercavano la morte nel ventre della terra per salvaguardare l'onore nei campi i raccolti marcivano. Luna di primavera vedeva Felice Promessa smagrire sempre più morendo di una miserevole morte. Per molte notti urlò nel sonno. Marionetta che ora dormiva al posto di suo marito sussurrava padrona non piangere devi essere forte pensa al bambino devi pensare al bambino. Luna di primavera ci provava ma come poteva pensare al figlio senza pensare anche al padre? Infine il primo giorno della quindicina del grande freddo diede alla luce una bambina. La Hanlin chiamò la nipote Giada Lucente perché la Giada era la più bella fra le pietre e possedeva cinque virtù la carità per il suo splendore la rettitudine per la sua trasparenza la saggezza la saggezza per la purezza del suono che produce cadendo l'equità per i suoi orli affilati che non feriscono nessuno il coraggio perché può essere spezzata ma non piegata. Non molto tempo dopo la nascita della bambina quando le grandi piogge terminarono e le strade si furono asciugate la famiglia V tornò a Pechino lungo le mura della città vecchia erano appesi festoni fatti di vasi da notte di stracci insanguinati inutili amuleti appesi per cacciare lo straniero la porta di Ike and Men era crollata sulla strada dei Salici quel che era stato un susseguirsi di giardini identici fra loro era una terra di nessuno suddivisa qua e là da recinti malconci improvvisamente vecchio Falco fece fermare il carro che stava guidando gli altri dietro si arrestarono cigolando mentre la famiglia stava a guardare egli scese a terra e scomparve attraverso un cancello rotto rimase via per un po' ma quando tornò aveva un'espressione come se gli avessero strappato il cuore è tutto qua gridò asciugandosi le lacrime con la manica no non è qui gioia di lotto agito al dito accusatorio verso di lui tu sei un vecchio cieco e pazzo sei proprio sicuro chiese luna di primavera lui a noi com'è possibile idiota sibilò gioia di lotto tutte le case lungo questo hutung si assomigliavano vado a guardare disse luna di primavera porgendo la bambina a ciccia marionetta aiutò la sua padrona a scendere e la sostenne mentre camminavano con precauzione in mezzo alle rovine da un cortile all'altro ovunque lo stesso spettacolo mucchi di legno carbonizzato mattoni rotti e terra di tanto in tanto frammenti di tegole azzurre tutte quelle intatte dovevano essere state portate via insieme a qualsiasi altra cosa che fosse potuta sembrare utile o di valore luna di primavera riconobbe un angolo del tavolo in pietra degli scacchi e vi si accoccolò accanto frugando fra le macerie nella speranza di trovare un pezzo di cavallo tang la ricerca era assurda naturalmente senza altro doveva essere stato uno dei primi oggetti portati via oppure distrutti quando raggiunsero quello che doveva essere stato il cortile di gioia di loto e del handling trovarono non un gingillo non un libro in un raggio di sole qualcosa scintillò ma era soltanto un pezzetto di specchio anche le gioie di porpor erano scomparse luna di primavera si voltò lentamente e fece ritorno ai carri era vicina al cancello quando inciampò in un pezzo di targa che per trent'anni aveva annunciato al mondo qui dentro vive una grande famiglia una famiglia che ha nel suo seno un letterato handling per onorare l'impero undici addio se l'erba avvizzisce le radici non muoiono e quando viene la primavera la sua vita si rinnova solo il dolore finché ne restano le radici rinasce da sé anche senza primavera Chen Shanmin dinastia Sung i fratelli Hanlin e le loro mogli decisero di ritornare ai cortili ancestrali al villaggio delle Canne distante una settimana di viaggio a ovest di Pechino benché le mura del giardino fossero state danneggiate e la terra c'era sempre e potevano sperare di ricominciare una nuova vita ma per quanto la Hanlin insistesse Gioia di Loto si rifiutava di lasciare la capitale per la casa della suocera e così egli cercò rifugio per i suoi familiari più stretti nella casa dello studioso Yen che era rimasta intatta dovettero accontentarsi di due stanze comunicanti nella più piccola dormivano la Hanlin e Vecchio Falco e in quella più grande tutte le donne erano lì da una settimana quando all'ora del gallo Vecchio Falco annunciò che il terzo figlio della casa dei Chang aspettava importantina di fare visita per quella che sembrò una lunga pausa nessuno si mosse poi il Hanlin disse sommessamente fa pure entrare il nostro onorato ospite no gridò Gioia di Lotto non ancora questa stanza non è pronta ci occorre un po' più di tempo vada al nostro onorato ospite pregalo di attendere qualche minuto in modo che possiamo prepararci per la visita Vecchio Falco si volse al Hanlin lo studioso annui lentamente la tua padrona ha ragione ci occorre un po' di tempo Gioia di Lotto fece attendere talento nobile un'ora dopo aver ordinato a Ciccia e Marionetta di fare un po' di ordine nelle stanze che cosa penserà continuava a chiedersi non preoccuparti moglie mia la rassicurava Hanlin con dolcezza egli capirà sicuramente ma lei sembrava non udirlo e ordinava che libri e fagotti già spostati una volta venissero spostati di nuovo tenendo la bambina luna di primavera sedeva rigidamente su una sedia mentre coperte i cibi venivano ammucchiati sotto i letti infine furono presi a prestito dei paraventi per delimitare un piccolo spazio in cui poter ricevere degnamente l'ospite e servire il tè ma a gioia di loto fu soddisfatta soltanto quando il Hanlin luna di primavera e lei ebbero indossato i loro abiti migliori fece andare tutti gli altri nella stanza più piccola e disse di restarvi finché il visitatore non fosse partito soltanto a Ciccia fu consentito di restare per servire il tè e finalmente ordinò al vecchio falco di far entrare l'ospite gli occhi del giovane zio erano cerchiati e così parve a luna di primavera erano velati da una tristezza che non vi aveva mai letto prima che partisse da Cicciao per trasferirsi al sud gli uomini si scambiarono i saluti di rito e le frasi del Hanlin erano più cerimoniose di quelle che normalmente venivano riservate a una persona tanto giovane ti prego illustre figlio del mio vecchio amico siediti e unisciti a noi per il tè siete molto gentile disse talento nobile evitando lo sguardo della nipote ho mandato la nostra inefficiente servitù a comprare dei dolci disse gioia di loto sorridendo c'è un pasticcere ambulante che lavora nel quartiere ha dolci di sesamo che sono veramente buoni oh niente naturalmente in confronto a quelli di Cicciao tutti sanno che i dolci della tua onorevole città sono i migliori del regno anche se io non ho mai avuto la fortuna di assaggiarne uno questo è quel che dicono tutti non è così marito mio continuò a intrattenere cortesemente l'ospite e per la prima volta l'una di primavera notò dei fili grigi fra i capelli della suocera ci fu un colpetto alla porta ed entrò Ciccia con il vassoio del tè si inchinò poi li servì cominciando dall'ospite quando lei gli porse la tazza lui la prese con entrambe le mani immediatamente l'una di primavera seppe perché era venuto il giovane zio portava l'anello straniero si conficcò le unghie nelle palme delle mani rifiutando per un attimo di accettare la verità forse quell'anello aveva un significato diverso chiuse gli occhi e quando li riaprì il giovane zio era sempre là l'anello al dito come prima lei guardò la Hanlin e Gioia di Loto i loro sorrisi i naturali confermarono quello che aveva temuto e sempre saputo suo marito era morto con estrema precauzione prese la tazza di porcellana dalla vecchia serva sicura che se le fosse caduta si sarebbe frantumata anche lei in mille pezzi aspettarono che l'ospite prendesse il primo sorso dopodiché la porta si richiuse e i quattro furono di nuovo soli mi auguro che resterai per la cena figlio del mio amico disse il Hanlin mi auguro che tu lo faccia non possiamo offrirti molto ma non te ne andrai affamato ti prego insistette Gioia di Loto ma certo resterai tuo padre il venerabile vecchio era spesso nostro ospite ricordo bene quante volte venne a casa nostra nella strada del salice e quanto viziasse i bambini sì sempre tante buste rosse nell'ora che seguì Gioia di Loto e il Hanlin si informarono cortesemente di ciascun membro della casa dei Chang e benché talento nobile non li vedesse da oltre un anno rispose meglio che potè schierendosi spesso la gola con gli occhi fissi sulla teiera blu e bianca al centro del tavolino rotondo da te l'una di primavera ascoltava attenta molto attenta nel timore che le sfuggisse anche soltanto un sussurro e nel timore di pensare a Felice Promessa suo marito quando la teiera fu vuota fece portare in cucina per farsela riempire ma talento nobile la pregò di restare è tardi devo andare si alzò in piedi anche il Hanlin si alzò figlio balbettò schierendosi la gola figlio del mio amico ti prego non andartene ancora guardò gioia di loto poi luna di primavera le donne annuirono col capo l'Hanlin si volse di nuovo all'ospite ti prego parla desideriamo sapere sedettero talento nobile si tolse l'anello e lo mise sul tavolino come posso dirvelo mio figlio lasciò il monastero subito dopo la fine della sicità comincia da lì talento nobile annui indugiò un istante poi parlò felice promessa mi trovò attraverso conoscenti comuni mi chiese come potesse rendersi utile gli dissi di tornare al monastero ma non volle saperne insistette e così tentammo insieme di fare del nostro meglio mettendo in guardia i convertiti che si trovavano in pericolo e aiutandoli a lasciarli nord poi tentammo di aiutare coloro che erano assediati nel quartiere delle ambasciate di appellarci al senso di responsabilità dei cinesi vi portammo di nascosto cibo e informazioni cercammo di trovare ufficiali appartenenti alle truppe regolari che fossero preoccupati per le implicazioni di una eventuale vittoria dei pugni di giustizia e di concordia e che potessero essere persuasi a non dare il loro sostegno molti ci diedero retta altri finisero di attaccare sparando in aria per placare la vedova ogni volta correvamo il rischio di essere uccisi si interruppe bruscamente come se non ci fosse altro da dire ti prego disse il Hanlin continua talento nobile lanciò un'occhiata alla nipote per un istante i loro occhi si incontrarono e lei annui era il sesto giorno della quinta luna e gli venne da me travestito da culi questa volta ignoravo la sua missione ci scambiamo i soliti saluti ma egli si tolse questo anello di tasca e mi chiese di custodiglielo successe quel giorno come lo sai come puoi esserne certo chiese il Hanlin talento nobile sorseggiò dalla tazza vuota e poi sussurrò lo so allora anche noi dobbiamo sapere disse il Hanlin schiarendosi di nuovo la gola il soldato proseguì lo trovamo lo trovamo con tre compagni davanti a un'entrata segreta del quartiere delle ambasciate poco prima che venisse il carro e lo portasse via insieme agli altri non potemmo farci nulla non ce ne fu il tempo non c'è mai in battaglia non vi furono altre domande luna di primavera sedeva immobile quando infine talento nobile si alzò tutti lo seguirono inchinandosi diverse volte all'ospite le donne rimasero sulla porta e il Hanlin l'accompagnò alla portantina mentre i due uomini scomparivano nel cortile vicino gioia di loto gridò vieni ancora è stato così gentile da parte tua così gentile farci visita soltanto allora luna di primavera si accorse di non aver detto una parola nessuno lo aveva informato che lei aveva dato a suo marito una figlia e che era stata chiamata già da lucente lentamente tornò indietro e si diresse verso il tavolino passando la mano sulla superficie di legno come se fosse stata cieca finché non trovò l'anello lo teneva ancora stretto quando andò a letto ma durante la notte le sfuggì e cadde sul pavimento di piastrelle svegliandola soltanto allora sgorgarono le lacrime alla prima luce del giorno seguente gioia di loto si svegliò e si diresse decisa verso il kang dove giacevano luna di primavera e la bambina con marionetta scosse la nuora le lacrime le rigavano le guance è tutta colpa sua urlò indicando la serva mia sorella mi aveva avvertita che avrebbe portato sfortuna dille di andarsene questa volta luna di primavera capì che non poteva farci niente se l'odio anche se ingiustificato e assurdo poteva alleviare la sofferenza della suocera per la perdita del suo unico figlio lei non doveva protestare come te la caverai chiese abbracciando la ragazza dove andrai tornerò a casa a ceneri sapienti la terra è sempre là anche per me e qualcuno deve pur badare alle tombe che si non poteva non poteva la terra è sempre là Grazie a tutti